ciao a tutte ragazze eccomi qui tornata con un nuovo video come potete vedere vi faccio il video del campagna 7 di amon eccolo qui e questo qui è appunto campagna 7 giugno luglio 2013 offerte imperdibili in tutto il catalogo ma sfogliamolo subito insieme allora nella prima pagina troviamo la prima tappa del programma fedeltà che consiste cioè potete avere questo set di tazzine da caffè a soli 3 euro e 95 e come si può avere allora dovete fare dovete acquistare 20 euro nella campagna 7 e dovete acquistare questo prodotto che è la matita contorno occhi e che in questo caso è il prodotto fedeltà a 2 euro 95 poi seconda tappa acquistare altri 20 euro dal catalogo 8 acquistare il prodotto fedeltà che sarebbe questa crema della boncar crema per le mani ha sempre 2 euro 95 poi terza tappa nella campagna 9 acquistare altri 20 euro e acquistare lo spray per il corpo cioè a vostra scelta di fragranze a 2 euro 95 e con un contributo di 3 euro 95 avete questo set di quattro tazzine da caffè qui ci sta una grandissima offerta tutti e 4 prodotti a 9 euro 90 anziché anziché 26 20 allora questo set contiene gel doccia spray profumato per il corpo dell'avone avonetral mascara super super ex extend e detergente 3 in 1 tonico e da tante e detergente tonico e da tante quindi 3 in 1 e o in tutto sarebbe un valore di 26 euro e 20 e quindi lo pagherete solo 9 euro e qui ci sono gli shampoo per tutti i capelli colorati anti crespo più volume eccetera eccetera a soli 3 euro e 50 per per 400 ml di prodotto poi qui ci sta la linea di makeup le perle di terra solari a 10 95 scontata il 45 per cento il pennello viso a 9 euro 95 terra solare compatta ci sta della la terra solare con cesi si trova in questo pennello la terra solare poi le fra qua le fragranze per lei e per lui scontata il 65 per cento poi quest'altro set che comprende il profumo da 50 ml più lo spray profumato per il corpo da 75 ml crema profumata per il corpo 150 ml del dorante e tessodore 50 ml per un valore di 50 euro 95 invece lo potete acquistare a 15 euro 95 quindi offerta molto conveniente qui la linea solari scontata del 40 per cento la linea per la cellulite 55 per cento di sconto la linea intimo scontata del 53 cento le creme e new non saldi poi altre creme e new i siri i detergenti per il viso e qui ci sono crema contorno occhi crema contorno labbra qui sempre altra linea della e new questo è il makeup della e new beauty tutto scontato fondotinta correttore ombretto poi ci sta la novità che questo sopra smalto iridescente a soli 5 euro 95 e l'effetto è questo quindi va applicato sopra un semplice ma poi qui ci sta il nuovo mascara dell'avono con l'applicatore panoramico a soli 8 e 90 anziché 40 euro scusate 14 euro e 50 e è disponibile in tre colorazioni il marrone il blu e nero poi qui ci sta un'altra novità che questo ombretto liquido della super shock ed è disponibile in queste colorazioni fantastiche a soli 5 95 poi ci sta questo rossetto della mega impact a 6 euro e 95 qui altro makeup sempre tutto scontato qui tutti i prodotti per gli occhi altri prodotti per gli occhi e liner matita piegaciglia mascara qui altri prodotti per le labbra rossetto matita labbra tutto a partire da 5 euro e 95 qui tutti gli smalti a partire da 4 e 50 qui tutti i prodotti per la cura delle unghie a 3 euro e 50 a partire da 3 euro e 50 qui altro makeup tutto a partire da 7 e 95 qui altro makeup tutto a partire da 7 e 95 qui qui ci sta questo straordinario fondotinta liquido effetto luce a soli 8 e 95 copertura leggera formula illuminante poi qui la linea extra lasting tutto scontato durata 24 ore qui ci stanno invece gli spray vaporizzanti spray profumato per lei e per lui per il corpo a 3 euro e 95 poi qui altre fraganze ci sta il profumo incandescente che è fantastico io l'ho usato l'ho provato parecchio tempo fa ecco fa solo 10 euro e 95 poi ci sta il profumo incandescente che è stato scontato il 55 per cento qui profumi per lui tutto scontato il 55 per cento profumo per lui questo profumo è buonissimo a soli 9 e 95 altro profumo 19 e 95 questo qua è il today poi qui altre fraganze poi qui tutti gli altri profumi tutti in offerta per lui e per lei ci sono i talchi della soft musk e della far away a 2 euro e 50 all'uno qui ci sono i mini kit della solution a soli 5 euro e 90 poi qui la linea solution creme solution tutta in offerta a 6 euro e 50 cioè quella da giorno a 6 e 50 quella da notte 5 e 90 qui è per la pelle grassa mista a 5 e 90 sia la crema da giorno che la crema da notte poi ci sta la linea clear skin qui potete vedere tre prodotti della clear skin a soli 13 e 50 poi qui altri prodotti della clear skin qui i prodotti dell'avoncar le creme da viso a 3 euro e 50 qui altri prodotti dell'avoncar a partire da 2 euro e 95 qui i prodotti della enew clinical qui altri prodotti della enew altri solari i solari qui intimo costumi questo simpaticissimo vestitino 8 in 1 a 16 euro e 90 intimo pigiami pigiami intimo qui tutto intimo intimo questo fantastico vestitino a 22,90 questo braccialetto dell'amicizia acquistando un braccialetto potete avere un altro in regalo e costa solo 7,90 qui tutti i bijoux altri bijoux alta classe e basso costo qui altri bijoux tutti a prezzo strepitosi questi fantastici orologi a 12,90 qui altri bijoux qui sempre altri bijoux qui borse di hello kitty tutta la conoscenza di hello kitty abito, borsa e infradito qui questa borsa questo sciarpa da mare quest'altra borsa da mare questi infraditi e questo pareo pochettine altre borse questo infradito scusate sandali questi qua invece sono gli attrezzi per lo sport le scarpe sempre sportive prodotti per così per i bambini altri bijoux questa invece è la collanina della solidarietà a soli 3,50 euro fantastica qui ci sta il completo letto matrimoniale bellissimo qui ci sono invece i prodotti per i capelli a spray a soli 4,50 euro poi qui i prodotti di shampoo della advanced technique 40% risparmia fino al 40% qui sempre advanced technique per tutti i tipi di capelli qui invece ci sta questo setto composta da due maschere per capelli colorati più una spazzola per coloratura il tutto a soli 7,95 euro quindi un'offerta strettosa qui le tinte per i capelli qui la linea abon natural a soli 2,95 euro qui ci sta questo spray notte serena e bassa monote serena a soli 3,95 euro la linea planet spa linea abon neutral questa qua per il corpo la linea abon man da uomo linea skin so soft tutto all'ulio di jojoba qui linea sempre skin so soft qui i bagnosfumi della senses a 3,50 euro qui d'adoranti 24 ore di protezione per lui e per lei a 1,99 euro qui prodottini per la cura dei piedi a partire da 2,50 euro altri prodottini per la cura dei piedi spray d'adoranti e sfolianti qui la linea della color trend a partire da 3,50 euro rossetti matite labbra mascara appunto fondotinta cipria smaltini tutto a partire da 3,50 euro qui ci sta il bassa lomo labbra 1,99 euro qui invece ci sono questa offerta da 2 bagnoschiuma da 1 litro a soli 9,90 euro e potete comunque scegliere voi le fragranze e poi alla fine ci sta il siero per le punte secche a soli 3,95 euro e niente ragazzi questa è stata la campagna 7 spero vi sia piaciuta vi sia stata utile mi mando un grande solo bacio a tutte quante noi ci vediamo al prossimo video ciao